Questo tutorial ti mostrerà la procedura per una corretta registrazione al portale studenti Smart Edu. È possibile raggiungere il portale studenti attraverso il sito d'Ateneo unict.it. Cliccando sul menu a tendina Servizi, quindi sulla prima voce Portale Studenti. Ti trovi ora nel portale e non avendo ancora un profilo attivo dovrai cliccare su Registrati. Inserisci tutti i dati richiesti. Nome, cognome, data di nascita, comune di nascita e codice fiscale. Inserisci una password a tua scelta. Inserisci nuovamente la password per confermarla. Scegli una domanda di emergenza. Ti servirà per recuperare la password nel caso in cui dovessi dimenticarla. Inserisci quindi la risposta alla domanda che hai formulato. Inserisci la tua mail personale. Il tuo numero di telefono fisso, se vuoi indicarlo. Il tuo numero di cellulare. Ricordati di leggere l'informativa sulla privacy e di accettarne alle condizioni cliccando sul flag Accetto l'informativa privacy. A questo punto clicca su Procedi in basso a destra. La registrazione è avvenuta con successo. I tuoi dati di accesso ti sono stati inviati via mail. La mail che hai ricevuto contiene il link per attivare il tuo nuovo profilo studente. Cliccalo. Tutto fatto. Il tuo profilo è stato correttamente registrato e attivato. Da adesso puoi accedere al portale studenti con username e password oppure tramite e sped.